ciao benvenute o benvenuti in questo nuovo video come potete vedere all'inizio faccio vedere un sacchetto di terra compreso anche i semi che tra un po andrò a piantare e come ben sapete il tarassaco ha tantissime proprietà soprattutto diuretiche e di conseguenza a parte far bene a noi anche a chi possiede animali si può dare in abbondanza e per cominciare dunque dispongo in un vaso quadrangolare un po di argilla espansa che poi servirà per l'appunto a mantenere le radici sane anche perché è sbagliato mettere direttamente la terra senza prima aver messo l'argilla una volta che andrò a distribuire quella che per l'appunto come dicevo prima l'argilla espansa andrò poi pian piano a mettere la terra al di sopra fino a quando poi non arrivo al bordo scusate il disordine ma mi stava scappando il sacchetto di terra dalle mani e pur di tenerlo ha cominciato insomma a buttare a destra e manca però dai tanto la terra va sempre dove deve andare e una volta che l'ho distribuita come si deve per dire vado poi aprire il sacchetto famoso che contiene i semini preziosi come li vogliamo chiamare e li andiamo a spargere all'interno poi ovviamente insomma mettiamo un po d'acqua no alla pianta una volta che abbiamo eseguito l'operazione aspettiamo con pazienza che nasca anche se si dice che praticamente la stagione quella ottimale del tarassaco sia in fine primavera però dai possiamo sempre sperare che nasca qualcosa e magari vi terrò informati ciao